Il Presidente della Regione Sardegna avvii l'iter amministrativo che consenta al porto di Sant'Antioco di rientrare nell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna quale giusto riconoscimento all'importanza strategica rivestita dallo scalo di Sant'Antioco anche in termini di sviluppo dell'intero territorio circostante. Il Sindaco Ignazio Loci sottolinea che si tratta di una richiesta legittima avanzata più riprese che oggi di fronte al silenzio reiterato della Regione Sardegna assume la forma dell'atto di giunta. Attualmente spiega Ignazio Loci il nostro è l'unico scalo isolano fuori dall'ambito del sistema portuale di Sardegna, sistema che riconosciuto tra i milioni in Italia per la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati da ieri potrà peraltro beneficiare di oltre 500 milioni di euro per una serie di interventi da eseguire nella rete dei porti sardi eccezione fatta per quello antioquense. Ormai di fronte all'attuale scenario non ha alcun senso, ha aggiunto Ignazio Loci, che il porto di Sant'Antioco resti fuori dall'autorità di sistema e continui a rimanere sotto legida della Regione. Questo crea una discriminazione tra territori non più tollerabile. Lo scalo antioquense riveste un ruolo fondamentale per tutto il sud ovest della Sardegna. Basti pensare che il Comune di Sant'Antioco nonostante non sia di sua competenza, costantemente anticipa risorse ed esegue lavori di manutenzione nelle aree portuali, mentre dall'altra parte si investono 500 milioni di euro. Questo non è accettabile. L'amministrazione comunale di Sant'Antioco, peraltro, a conclusione di un iter durato anni, nel 2019 ha approvato la presa d'atto della variante al piano regolatore del porto, che prevede la suddivisione delle aree portuali, salvaguardando l'attività della pesca, la produzione commerciale e concedendo ampi spazi alla cantieristica e ai posti barca da di porto, nonché ai servizi che faranno dal collegamento al centro urbano.